Si chiama POC la nuova sfida urbanistica lanciata dal Comune alla città. È l'acronimo di Piano Operativo Comunale, cioè lo strumento chiamato a rendere operativi nei prossimi cinque anni le norme e gli indirizzi contenuti nella PSC, il Piano Strutturale Comunale. L'amministrazione vorrebbe adottarlo entro la fine del mandato per lasciarlo in eredità al prossimo governo cittadino. Per stenderlo e individuare le priorità, la Giunta Dosi ha deciso di avviare un percorso di pianificazione territoriale allargato che si concretizzerà il 7 settembre prossimo in una conferenza in comune alla presenza di tutti i portatori di interesse della città. Vuole ascoltare attraverso diversi strumenti, ovviamente tutti gli stakeholders locali che hanno interesse e che hanno anche delle aspettative evidentemente sullo sviluppo e la concretizzazione finalmente del Piano Strutturale Comunale che appunto poi diventa uno strumento urbanistico più concreto con il Piano Operativo Comunale che disegna i prossimi 5 anni di applicazione dello strumento regolatorio. A tal proposito Palazzo Mercanti ha predisposto già una base che altro non è che il frutto di tutti i contenuti degli strumenti urbanistici di questi anni, dal patto per lo sviluppo Vision 2020 a Piacenza Territorio Snodo 2010-2011, dal recente PSC al documento strategico di sviluppo locale 2014-2016. Tra chi sta collaborando a questo ITER anche l'Ordine degli Architetti. Diciamo che quando c'è stata questa condivisione di obiettivi è stata per noi un motivo certamente di piacere perché significa che in effetti come già in qualche momento lo si è detto gli architetti hanno un ruolo e probabilmente anche su Piacenza incominciamo a comprendere che questo nostro ruolo è quello di avere sempre maggiore importanza anche nei concetti e nei principi di pianificazione. Grazie a tutti.